Io da testimone che ho studiato in questa accademia posso dire che la professione e l'impegno che ci si mette per creare e formare un ragazzo è veramente a 360 gradi, perché si parte dalla base, dal disegno fino ad arrivare alla realizzazione, si studiano i tessuti, i filati, tutto quello che serve appunto per creare un abito. Senti Guido, secondo te è sufficiente essere molto artisti e poco tecnici o è necessario creare un adeguato mix tra entrambe le caratteristiche di un futuro stylist, di un futuro professionista di questo settore? La tecnica fondamentalmente è importante perché comunque se non ci sono delle buone basi non si possono raggiungere ottimi risultati e in questo pianeta moda è un ottimo trampolino di lancio.